Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli? Ah, è certo, il ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepo pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3. E se vieni proprio stasera, c'è una sorpresa per te. Bisogna riportare in Italia ordine, disciplina e rispetto. Se per insegnare questi valori, se per insegnare a rispettare il prossimo, a convivere con il prossimo, bisogna ipotizzare di reintrodurre il servizio civile o militare obbligatorio, allora facciamolo. Lo ha detto il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, parlando ai poliziotti che hanno protestato in piazza Montecitorio davanti alla Camera. Lei sarebbe d'accordo oppure no? No, no, no. Non è favorevole? Ci sentivano esserci mercenari e basta. Mercenari? Basta. Come mai no, militare obbligatorio? Perché l'ho fatto. Ho detto che deve essere di leva, deve essere di... Mercenari? Mercenari, sì. No, deve essere... Oppure, pure, ce ne è introdotto il servizio civile. Il servizio civile sì, quindi? Sì. Volontariato, no. Volontariato ho i vent'anni, ma per il resto bisogna pagarli, eh. Secondo lei mancano effettivamente dei valori? Si è perso un po' l'ordine e la disciplina tra i ragazzi di oggi? Eh, altro che. Non si parlano neanche più i ragazzi. Continuano a decitare. E secondo lei qual è la causa di tutto ciò? Eh, si è stropa tecnologia. Sì, sicuramente. Favorevole come mai? Favorevole perché sarebbe ora di introdurre un po' più di educazione nel genere maschile. Questa è una polemica nei confronti del sesso maschile, forse? Eh, sì. Dovrebbero crescere un pochettino di più, un po' prima anche. E il servizio militare può aiutare, secondo lei? Certo, sicuramente. Visti i precedenti, sicuramente. Chi dice che andare a fare militare in maniera obbligatoria porta via del tempo anche a un'eventuale costruzione di una carriera, di un percorso professionale o di studi? Assolutamente. No? No, no, no. Secondo me sono tutte scuse. Beh, è una risposta un po' difficile da fare perché tornare ancora nel segno dei valori che c'era una volta. Fare il militare obbligatorio ti posso dire sì e no perché io l'ho fatto male volentieri il militare perché non rende niente. Sì, il militare ti tira via 15 mesi di lavoro e basta. E cosa succede? Succede che quelli che vanno volontario hanno uno stipendio, nel senso che è come un lavoro, per loro è un lavoro. Adesso chi va a valutare se è giusto o sbagliato?